Uscite negli ultimi anni, quindi 2014-2015, quest'anno su nove titoli, cinque sono in anteprime italiane, che vuol dire che sono la prima volta che vengono presentate in Italia, sei sono opere prime, anche questo è un bel elemento, sono opere di regisi, tutti i nove film, credo che il regista più vecchio abbia 42-43 anni, insomma, e sono lavori molto importanti, che hanno vinto premio a Berlino, sono stati premiati al Sanvers, che sono passati a Venezia,